E questo era il sentimento dopo il primo derby, anche se fu un derby che io lasciai prima della fine, però non so se a qualcuno di voi nella tribuna dei giornalisti qualche amico ha detto, o se non è deontologico parlare di cose spiacevoli, in Genoa cambierei la ragione sociale e direi, era abitro Rosetti tra l'altro, e la chiamerei preziosi e ci rinomata macelleria, e vi ricordate quella partita. Non ci sono giustificazioni, allora i nostri hanno mollato, forse per le grandi, dei palli spaventosi fatti su Cassane e su altri. Spero che preziosi o i genuani non si offendano per questo, però credo che sia, io ho sempre parlato molto chiaro, mi sono battuto per una moralizzazione del calcio, mi sono battuto perché il palazzo, e questo da otto anni, dall'inizio, perché il palazzo fosse riformato e finalmente si occupassi degli interessi di tutti gli associati, sia della categoria A e categoria B. B2 mi sembra sia abbastanza importanti, dati conto, mi sembra che Genoa abbia fatto una partita di grande intensità, non ne siamo mai stati capaci, a parte i primi dieci minuti, di poter contastare in certe situazioni di campo, e ricordo uno scopo che ci farà vulturare, ci dirà quale saranno le nostre proiezioni future. Raffa, palladino, è una notte buissima adesso per la Sanna, è un rosso diverte per Caccia d'Oro, finisce 3 a 0 per Ingenua, grande abbraccio tra Cassano e Rosetti, alla fine della partita Cassano sta stringendo le mani, la mano a tutti, metto dominio del... Ingenua sulla Sampdoria E questo era il sentimento dopo il primo derby, anche se fu un derby che io lasciai prima della fine, però non so se a qualcuno di voi nella tribuna dei giornalisti, qualche amico ha detto O se non è deontologico parlare di cose spiacevoli O se non è deontologico parlare di cose spiacevoli O se non è deontologico parlare di cose spiacevoli O se non è deontologico parlare di cose spiacevoli